Buongiorno cari amici, buon pomeriggio e bentornati o benvenuti sul canale. Vi avevo detto che se avessi trovato mezz'oretta, perché ho davvero un po' di libri da raccontarvi, vi avrei parlato delle mie ultime letture e visto che oggi ho trovato una mezz'oretta, se vorrete farmi compagnia vi racconterò quello che ho letto. Vi avevo detto che avevo ancora due libri natalizi in sospeso, ma non spaventatevi, anche se sono libri natalizi, sono comunque carini, soprattutto uno, uno è un piccolo 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 gioiellino. Partiamo dal primo, che si chiama Natale con delitto di Mavis Doriel Hay, Crimini e misteri. Adesso devo restituire tre libri in biblioteca e quindi o adesso o mai più, poi ci sarà la settimana santa, che è già iniziata con tutti gli impegni, soprattutto siamo impegnati con i bambini della prima elementare. Adesso vi racconto una cosa che è davvero troppo carina. Il giovedì santo nel pomeriggio c'è la lavanda dei piedi, la funzione della lavanda dei piedi e la tradizione nella nostra parrocchia la lavanda dei piedi viene fatta ai bambini che devono fare la prima comunione. E quindi dovevamo estrarre, perché di solito i nostri bambini vogliono sempre fare tutte le cose, dovevamo estrarre chi dei tanti doveva essere il protagonista di questo momento e nessuno si offriva. Allora abbiamo indagato un po' che i genitori, insomma, questi bambini erano spaventati perché pensavano di andare, non so se ridere o se piangere, perché vuol dire che comunque non sono abituati a partecipare a questi momenti. Loro pensavano di andare a fare una pedicure dall'estetista, che quindi erano lì sull'altare e il parroco li tagliava le unghie, puliva, guardava, ecco, insomma, questo era quello che loro avevano in mente. Allora, noi l'abbiamo spiegato nei giorni precedenti, però, insomma, loro erano spaventati da questa cosa, rassicurati che comunque l'unica cosa che dovessero fare era lavare i piedi a casa prima che qualcuno svenga sull'altare, si sono, insomma, si sono così incuriositi e dovremmo fare questa cosa. A parte questo piccolo intermezzo, sarà una settimana davvero molto intensa, sia con il coro che con i bambini del catechismo e quindi oggi ho un po' di tempo e ho proprio voglia di passarlo in vostra compagnia raccontandovi le mie letture, molto molto piacevoli. Allora, di cosa parla questo Natale con delitto? Parla di un aristocratico inglese, una persona con un carattere abbastanza difficile che chiama, diciamo, attorno a sé nei giorni di Natale, soprattutto per la giornata di Natale, i suoi figli che sono un po' sparsi nel mondo e che lui vuole ancora indirizzare, comandare, insomma, non è un uomo molto morbido e abbastanza giudicante, un lordo un po' aristocratico, un po' particolare. E nulla, tutti questi figli arrivano da varie parti del mondo, chi con i bambini, chi senza. In casa c'è anche una figlia che è stata scelta da lui per dedicargli il suo tempo, visto che non è sposata, ma questa figlia ha un fidanzato, tra virgolette, segreto e che proprio in queste vacanze di Natale ha invitato alla villa di famiglia per le feste natalizie e dove vorrebbero, appunto, dire al vecchio genitore che loro hanno intenzione di sposarsi. Ovviamente, come avrete capito, è tutta una questione di soldi. C'è vicino a questo lord inglese anche una giovane signora che li fa un po' da segretaria, che gli organizza le giornate, gli appuntamenti, le uscite. I figli non vedono di buon occhio questa governante, chiamiamola così, Miss Portisam, perché pensano che si voglia intortare il vecchio genitore. E quindi questo lord, questo ricco aristocratico inglese, vuole fare, appunto, una festa di Natale in stile perfetto e studia, appunto, alcuni accorgimenti, come il maggiordomo che si veste da Babbo Natale e distribuisce i regali, come i crackers, questi pacchetti di moda nei paesi anglosassoni che devono scoppiare ed escono delle caramelle, dei dolcetti. Insomma, quando tutto sembra che stia andando per il meglio, questo signore viene trovato ucciso nel suo studio. E da lì, da lì cominciano le varie testimonianze che non concordano mai dei figli e dove il colonnello Alstock, commissario capo della contea, si trova davvero in difficoltà perché è un amico di famiglia, ha al suo seguito degli ispettori che non sono propriamente molto intuitivi e molto svegli e quindi ci sono, appunto, delle scene, a volte anche abbastanza ridicole, divertenti che porteranno, poi, dopo un'intensa indagine di questo commissario, a capire chi è stato o chi è stata, appunto, ad uccidere l'aristocratico signore. Un giallo davvero molto, molto carino, scorrevole, divertente, ambientato, appunto, in questa campagna inglese sempre bella, sapete che io amo questi paesaggi così un po' bucolici e un giallo ambientato, diciamo, nel periodo di Natale ma proprio perché la storia è stata costruita intorno alle festività natalizie. Molto carino, molto divertente e vi devo dire che alla fine si fa anche un po' fatica a capire chi è che ha commesso l'omicidio, ma poi alla fine ci si arriva. Quindi, se volete, appunto, un giallo molto morbido, molto leggero, a tratti divertente, Natale con delitto di Mavis Doriel Hay della casa Lindau, casa editrice Lindau. E questo è il primo libro che ho finito di leggere. Secondo libro, molto carino, che ho letto in due sere perché, vabbè, scorre velocissimo e molto molto bello Memorie di un cane randagio, Anne Martin Allora, questo libro di cosa parla? Racconta la storia di randagismo dalla parte di un cagnolino, anzi di una cagnolina. La randagia si chiama Squirrel, è una cagnolina molto piccola che all'inizio, appena nasce, lei e il suo fratellino e la mamma vivono nei dintorni di una fattoria, di una casa di campagna che viene abitata soltanto nei momenti estivi o nei momenti invernali per le vacanze, ma poi appunto viene custodita da delle persone che tagliano l'erba, che curano il giardino, che guardano la casa, ma i padroni non ci sono più. Però a questa cagnolina poi succedono degli imprevisti. La mamma muore, il fratello, mentre stanno gironzolando, viene catturato e comunque poi dato ad una famiglia e lei si ritrova da sola a vagabondare per il mondo. Mi è piaciuto tanto, mi è piaciuto tanto perché tante volte io avendo un cagnolino, che non è tanto cagnolino ma è un cagnolone, mi chiedo che cosa pensi, cioè io non so se anche voi che avete degli animali, col gatto un po' meno, perché il gatto è sempre un po' diffidente, ma il cane, soprattutto il mio codio, è davvero un patatone, quindi io così mi ritrovo molto spesso a cercare di capire cosa stia pensando o se magari io gli parlo, gli racconto delle cose, gli dico no non fare questo o stai aspettando la mamma, ciao Cody, sei arrivato, aspetti la mamma e se qualcuno mi sentisse magari appunto rimarrebbe un po' sbalordito, ma io senza confondere l'amore di un figlio con l'amore di un cane, però io davvero so che quando lui se ne andrà soffrirò tantissimo perché li voglio davvero tanto tanto bene e lui come tutti gli animali da compagnia è molto molto sensibile, si accorge quando noi non stiamo bene, ci regala quella leccata o quella strusciata quando magari siamo giù di morale, ti guarda con quegli occhi dove ti dice non ti preoccupare ci sono qua io, ti difendo io, soprattutto con me, io sono proprio la persona della famiglia che lui deve difendere, cioè se qualcuno si avvicina e mi dà un bacio e che lui non conosce ecco avviso sempre che è meglio non farlo perché è molto molto geloso e sono la persona che lui deve custodire, gli altri no ma io sì e ne ho avuto la prova e quindi niente, è bello perché si entra un po' nella mente dei nostri cani, dei nostri amici e alcuni atteggiamenti a cui noi magari diamo un'importanza relativa visti con gli occhi e con il cuore di un cane hanno un altro significato. La sua vita sarà una vita di molti anni di randagismo, soffrirà anche per alcuni incidenti ma poi alla fine finalmente questa cagnolina troverà una casa, troverà una padrona che la ama tantissimo e che lei potrà finalmente capire di avere una famiglia e una persona che la ama come è giusto essere amati. Quindi è davvero un libro dolcissimo, Memorie di un cane randagio e che vi consiglio se avete degli animali ma anche no perché ci fa vedere come noi umani siamo visti dai nostri amici cagnolini o cagnoloni. Bello, bello, bello. Terzo libro che ho letto in una notte. È scritto con dei caratteri molto molto grandi, adatti a chi come me fa un po' fatica a vedere soprattutto alla sera. La piccola bottega dei ricordi. Anna-Lisar Corbrion. Questo è un libro della biblioteca, penso anche abbastanza vecchiotto. Vediamo se c'è scritto l'anno. No, vabbè, fa niente. Comunque che cosa racconta questa storia? È un romanzo molto 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 bello e sono sicura che ognuno di noi che ha perso qualcuno che gli è caro avrebbe voluto forse trovarsi nella situazione di questa ragazza che di lavoro fa la restauratrice di foto d'epoca o di foto comunque rovinate. Nel suo piccolo laboratorio Emma vede e incontra tantissime persone. La moglie che porta una foto sgualcita del marito che è morto in guerra, un signore che trova nella sua soffitta tanti scatoloni appartenuti a tante persone della sua famiglia e vuole risistemare queste fotografie per poterle regalare ai vari membri della sua famiglia perché possono avere un ricordo e così via. Cosa succede ad Emma? In bottega arriva una signora anziana che le porta una foto molto sgualcita da restaurare. Emma capisce che questa signora ci tiene tantissimo a questa fotografia perché si è rovinata proprio dal tanto accarezzarla che probabilmente questa signora ha fatto con questa foto. E nulla, quindi prende la foto in consegna e poi dice alla signora che appena sarà sistemata e poi la riconsegnerà, torna nel suo appartamentino sopra al laboratorio e dal computer le arriva una mail e il mettente della mail è il marito defunto di questa signora. Che cosa succede tra le pagine di questo romanzo? Emma riceve dei messaggi dall'aldilà dalle persone che sono nelle fotografie che alcuni clienti portano ad Emma e da lì comincia una serie di corrispondenza con questi signori e signore defunte perché devono concludere delle storie in sospeso. Un gioiello che è andato perso e che la moglie non ritrova più e pensa che sia andato perso in un bombardamento della guerra. Il capire la verità sulla morte di una donna e di chi è effettivamente la colpa dell'omicidio e di tante altre storie rimaste in sospeso e che quindi Emma, all'inizio molto riluttante aiutata da un giornalista che poi diventa qualcosa di più e che sarà coinvolto direttamente in una di queste storie riuscirà a portare a termine. Un libro che mi è piaciuto tantissimo perché mi sono immedesimata. È carino, è divertente con quel pizzico di brivido, chiamiamolo così, soprattutto per una storia e che poi comunque finirà bene. È ricco di bei sentimenti e penso che secondo me ognuno di noi almeno una volta nella vita avrebbe voluto trovarsi in quella situazione in cui ti arriva una mail, che ne so, una mail dal mio papà che non sarebbe stato neanche capace di scrivere al computer magari non per risolvere chissà quale problema ma così per salutarmi e per dirmi che comunque lui c'è e ci sarà sempre anche se io lo so però ecco questo così mi sono immedesimata in questa storia e mi è piaciuto davvero tantissimo un libro che ho letto in una notte ho dormito poco quella notte lì me lo sono letto tutto perché non riuscivo a staccarmi dalla storia La piccola bottega dei ricordi Fabri Editori Anna-Lise Corbrion e poi arriviamo all'ultimo libro che ho letto un libro natalizio ma questo è una piccola 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 chicca Louisa May Highcott vi ricorda qualcosa? Racconti di Natale è un piccolo gioiellino uno scrigno ricco di sentimenti di buon cuore di belle azioni di amore di condivisione che dirvi di più? non vi racconto di più nel senso che vi rovinerei la sorpresa di questi racconti che ci sono racchiusi in questa piccola in questa piccola raccolta è un libro che ci regala davvero buoni sentimenti ma non solo per Natale perché ci fa capire che se le cose le facciamo con il cuore sicuramente ci regalano tanto se le buone azioni vengono fatte gratuitamente ci regalano tantissimo e sono veramente quanti racconti adesso ve lo dico uno, due, tre, quattro, cinque, sei sette racconti a volte magari anche un po' magici che ci fanno bene al cuore eccolo qui e quindi se lo trovate in biblioteca io ve lo consiglio si legge veramente velocissimamente vedete che sono proprio poche pagine ma un libro che ci regala sentimenti belli belli, belli, belli Louisa May Halcott racconti di Natale apre con il racconto più famoso del romanzo di piccole donne di quando la mamma è in quella catapecchia ad assistire quella famiglia bisognosa e le ragazze la mattina di Natale vanno ad aiutare la mamma e a fare quest'opera di carità e di amore verso questa famiglia ecco questo diciamo è il racconto più famoso e questo piccolo libricino ci introduce agli altri racconti proprio con questo che penso chi abbia letto piccole donne lo conosce praticamente a memoria un piccolo capolavoro un piccolo gioiello che a mio parere va letto poi vi lascio così sapete che io amo tantissimo i libri per bambini e i libri per ragazzi ma i libri per bambini mi piacciono tantissimo io mi fermo sempre nel reparto degli illustrati perché l'illustrazione dei libri per bambini per me sono fonte di ispirazione creatività gioia bellezza perché non c'è un'età per amare i libri e mi sono imbattuta in questi due in particolare questo si intitola la matita e la casa editrice è Terre di Mezzo che fa di quei libri per bambini soprattutto gli illustrati che sono meravigliosi e cosa ci racconta questo libro come parole ben poco parlano le illustrazioni praticamente ci racconta la storia della matita la storia della matita qui c'è la prima illustrazione che è una matita che viene temperata con il taglierino come facevo io quando andavo al liceo artistico qui ci sono i primi germogli di una pianta non ve lo faccio vedere tutto perché vabbè poi abbiamo tante piante e qui ne abbiamo ancora di più poi il viaggio della matita qui c'è un tronco che viene abbattuto e poi c'è l'industria ma guardate che meraviglia che meraviglia di illustrazioni ma soprattutto ditemi voi se non avreste mai voluto trovarvi in un posto del genere in una cartoleria dove ci sono tutte queste matite colorate e niente si conclude ritornando poi alla matita in mano ad una bambina è un libro meraviglioso per le illustrazioni la matita di non saprei leggervi il nome edito da terre di mezzo è nulla se anche voi siete amanti dei libri per bambini degli illustrati come me andate a cercarlo io di questa sono rimasta ammagliata voi guardate questa illustrazione guardate che meraviglia i fiori senza tempo di michael rosen e sonia danowoski penso sia l'illustratrice di cosa parla questo libro parla di una pernice che visto l'arrivo dell'inverno deve partire per trovare posti più caldi e in questo viaggio ad un certo punto cade trova una casa per l'inverno insieme ad un suo amico che è un cagnolino spagnale da lì l'avventura e poi ripartirà ancora invece per quando arriva la primavera ripartirà per appunto compiere il suo viaggio ma la cosa bella oltre alle parole sono le illustrazioni parlano da sole ci regalano una carica emotiva un conforto guardate qui come si capisce come si percepisce dai colori il freddo la neve intorno adesso vi faccio vedere una che è meravigliosa guardate l'interno di questa casa questa ragazzina che ospita la pernice e il suo amico cagnolino sono di una bellezza e poi ancora guardate sono dei quadri dei quadri come si fa ad innamorarsi forse io perché ho fatto il liceo artistico e facevo questi disegni mi mettevo nei pomeriggi che ero a casa e occupiavo comunque cercavo di di rielavorare delle idee che trovavo sui libri non c'era il computer non c'erano i telefoni la mente era creativa era portata a cercare nuovi stimoli che è la cosa che dico io ai miei figli quelli grandi oramai ma anche a Lucia che fa liceo artistico non c'erano i telefoni non c'era internet non si andava a vedere le serie tv ogni tre per due ci si metteva lì si costruiva si cuciva si ricamava si tagliava si incollava si disegnava si creava la mente era stimolata e secondo me era una marcia in più scusate lo so e nulla e questi sono i libri che vi volevo far conoscere condividere con voi ma mi sono comprata due libri che voglio leggere al più presto due settimane fa alla televisione per puro caso ho visto il film Folle d'amore che racconta la vita di Alda Merini io Alda Merini non me la sono mai filata ma neanche quando ero giovane che mi avevano fatto leggere a scuola alcune poesie non lo so non gli ho mai prestato attenzione e ho fatto ho fatto veramente male questo film è interpretato non so se anche voi lo avete visto da Laura Morante che diciamo è l'attrice principale e che impersonifica l'attrice nell'età adulta e da Rosa Diletta Rossi che ha fatto invece l'attrice da giovane io sono rimasta affascinata da questa donna meravigliosa è vero lì era comunque un film romanzato raccontato vedetela come volete ma anche se soltanto per pochi minuti ci hanno fatto conoscere la disperazione il dolore l'angoscia di quando Alda va in manicomio e i manicomi sono esistiti e sappiamo benissimo come venivano trattate le persone che erano lì dentro io ho potuto cogliere il cuore di una donna estremamente intelligente molto sensibile e con tanto amore da condividere con le sue poesie ma anche tanto dolore una donna che mi ha colpito soprattutto quando si è intravista appunto la sua la sua parte di mamma di madre di queste figlie li poi li ha dovute lasciare perché era era in manicomio due figlie sono nate prima del suo isolamento di essere rinchiusa e le altre due figlie sono nate proprio in manicomio ecco la cosa che mi è piaciuta ovviamente sempre nel film raccontata da queste due splendide attrici è la consapevolezza di questa donna della sua malattia del fatto che non riusciva proprio per la sua malattia a fare determinate cose e la cosa che mi ha così lasciato una curiosità ma una curiosità bella non morbosa per una malattia è il capire di cosa abbiano pensato in tutti quegli anni le sue figlie quindi capolavoro secondo me di film un film davvero meraviglioso che vi consiglio di guardare se non lo avete visto e mi ha lasciato la curiosità di conoscere questa splendida donna così eccentrica ma così uguale a noi cioè milanese molto terra terra ma di un'intelligenza di una capacità d'animo di amore di sentimento grandissima e quindi io mi sono comprata due libri da leggere uno è questo una creatura fatta per la gioia Maria Grazia Calandrone biografia poetica di Alda Merini con 12 scatti inediti editrice Solferino e me lo voglio proprio leggere con calma per cercare di conoscere un po' di più questa splendida creatura e poi però incuriosita da cosa avevano nel cuore le sue figlie mi sono comprata l'altro romanzo Alda Merini mia madre raccontato dalla figlia maggiore se non ricordo male che si chiama Emanuela e anche qui penso siano due letture interessanti che mi aiutino a scoprire questa splendida persona questo animo così meraviglioso e ricco nulla ecco qua io vi ho raccontato un po' le mie letture cosa vorrei leggere siamo andati anche un po' sulle letture dei bambini io adesso vi saluto auguro a tutti voi una splendida gioiosa Pasqua Pasqua è una festa che a me piace tantissimo è proprio la festa della rinascita perché comunque a Natale Gesù nasce ma poi qui muore risorge qui c'è un passettino in più e anche bello sperando che non ci sia una pioggia ma probabilmente danno pioggia cercheremo di stare un po' tutti qui Pietro non riesce a scendere perché deve fare il fieno e si sa che la vita del contadino purtroppo non guarda le feste anche se la mamma vuole che lui torni a casa e quindi vabbè ci giostreremo tra i parenti rimasti chi è a casa e cercheremo di festeggiare e di rilassarci un pochino in questi giorni io vi saluto faccio ancora a tutti voi gli auguri di una buona Pasqua ricca di gioia di serenità di allegria di pace di giornate spensierate e se riusciamo anche a ritagliarci dai momenti per rilassarci e così fare un po' quello che ci piace ben venga vi abbraccio e ci rivediamo la settimana prossima grazie e ciao ciao